La sede centrale La sede centrale Quanto riguarda i professori, cosa l'hanno insegnato dal punto di vista umano? Dal punto di vista umano soprattutto qualche insegnante di matematica del biennio scolastico, del triennio di italiano e di qualche altra materia umanistica e qualche altro insegnante che si è succeduto nel corso degli anni nel mio ciclo di studi dal punto di vista umano mi hanno dato tanto in termini di solidarietà, rispetto degli altri, democrazia, spirito di sacrificio, senso del dovere Questo per dire, e soprattutto anche un termine di solidarietà e di accoglienza che mi hanno cercato di proporre, di promanare e che io ho colto poi nella mia esperienza professionale Come il suo percorso di studi nel nostro liceo ha influenzato dalla sua scelta di vita militare? Questo è un liceo scientifico, quindi la matematica, le materie scientifiche hanno praticamente una preminenza e l'Accademia militare di Modena all'epoca, forse voi non lo sapete, aveva il biennio accademico equiparato a quello del biennio in ingegneria Quindi coloro che completavano il biennio accademico, superando gli esami di analisi 1 e 2, fisica 1 e 2, geometria 1 e 2 praticamente avevano l'equiparazione con il biennio di ingegneria Quindi le basi scientifiche, solide, che mi sono state date in questo istituto mi sono servite sicuramente per approcciare a questo tipo di scelta Da dove è nato l'interesse per questo mondo? È stata una scelta inaspettata o programmata? È stata una scelta studiata, ponderata, quando al termine del ciclo abbiamo optato per questo tipo di forma concorsuale per poter accedere in Accademia Quindi nell'ambito della preparazione che mi era stata proposta e avevo seguito praticamente allo scadere, appena resumi maggiorenne, perché all'epoca il non maggiorenne doveva essere sottoposto al vaglio dei genitori o di coloro che facevano le veci tutoriali praticamente ho liberamente firmato la domanda e presentatemi presentatela al distretto qui di Lecce che all'epoca era il castello di Carlo V e poi attraverso un signore civile, un impiegato civile della difesa il cammino poi me lo sono costruito da me La passione per il suo lavoro è stata sempre presente oppure è nata con il tempo? Sempre, a tuttora, avendo raggiunto ormai 60 anni e 42 anni di carriera militare continuo ancora a ricevere sfide, impegni e slanci che ovviamente stimolano e motivano ancora di più il raggiungimento di traguardi e di superamento di difficoltà di obiettivi e di raggiungimento ovviamente degli stessi Se tornassi indietro li farebbe la stessa scelta? Sì, sì, a pieno Io non mi perderei un attimo dei 5 anni liceali e un attimo di quei 42 anni di carriera che qualche giorno fa ho compiuto Qual è stato l'episodio più significativo nella sua carriera? Il battesimo del fuoco, e lo dico a tutti che l'esperienza di essere il comandante di distaccamento da sottotenente in zona terremotata a seguito del terremoto dell'Irpinia e Basilicata del 23 novembre del 1980 è stato per me un momento altamente formativo Ho fatto 13 mesi il comandante di distaccamento per chi non è pratico di queste cose militari sa che il comandante di distaccamento è un piccolo comandante di corpo cioè alla potestà di polizia giudiziaria, alla potestà finanziaria, alla potestà economica, alla potestà disciplinare ha una serie di facoltà che da sottotenente a 22 anni di età non è facile, non so chi nel mondo normale abbia assunto questo tipo di responsabilità o di doveri In che modo il suo lavoro ha influenzato la sua vita? È un tutt'uno C'è solamente la mia vita intrisa di famiglia come la famiglia intrisa della mia vita professionale Perché un ragazzo oggi dovrebbe fare questa scelta? Perché è una scelta, un mondo affascinante, una vita affascinante, un'esperienza bellissima ti apre la mente il mondo a tutta la serie di conoscenze che forse non pensavi che ci fossero nel mondo ti apre lo scenario internazionale, europeo ti apre tutta una cosa che non ti riesci a trovare praticamente nella piccola sfera locale Infine volevamo chiederle se secondo lei ci potrebbe essere un'alternativa al servizio militare come servizio allo Stato Allora questo è un tema che sta venendo fuori anche ultimamente sui giornali Allora premesso che la leva non è stata abolita, la coscrizione obbligatoria ma è sospesa Poi con una legge voluta dal Presidente Mattarella che all'epoca era Ministro della Difesa si passò a una trasformazione su base professionale e sono incominciate ad arrivare i volontari, poi le volontarie Da questo punto di vista nulla vieta che si possa ripristinare ci sono anche delle condizioni di legge attraverso le quali si possa ricorrere al ripristino e alla ripresa del servizio obbligatorio Io ritengo che la scelta fatta da questo Paese come fatta in tempi da altri Paesi sul professionale sia una scelta quasi obbligata Però nella mia tesi di laurea in Scienze Politiche all'Università di Trieste io ho detto dimostrandolo che forse il sistema misto leva più professionisti avrebbe consentito sicuramente di attutire i colpi e i tagli finanziari che ovviamente in questi ultimi anni il Dicastero ha subito quindi avrebbe meglio forse compenetrato quelle che erano le esigenze da soddisfare